Il percorso successivo qual è? Segnatevela questa cosa perché la dico qui e poi non ci torno, ma è molto importante. Senza la riforma della RAI, che non vuol dire cambiare i palinsesti televisivi, che non vuol dire avere il vice caporedattore del TGX amico o nemico, senza la riforma della RAI come straordinario motore identitario e culturale di questo paese, noi non siamo nelle condizioni di fare alcun investimento sull'aspetto educativo. Quindi accanto alla riforma, anche la legge sul sistema radio televisivo. E' chiaro, se tu dici che la RAI è il luogo nel quale i singoli partiti vanno e mettono i propri personaggi, allora puoi anche tenerla come vuoi. Ma se tu pensi che la RAI sia il pezzo dell'identità culturale e educativo del nostro paese, è chiaro che per definizione non può essere disciplinata da una legge che si chiama legge Gasparri. Se è una cosa identitaria e culturale ed educativa, non può essere disciplinata da una legge che si chiama legge Gasparri. E' proprio ontologico, viene automatico, è un percorso ovvio.